buongiorno ad abiettivo news oggi 17 febbraio e santi sette fondatori dell'ordine dei servizi di maria oggi si celebra in italia la giornata del gatto dedicata ai quasi 10 milioni di amici che vivono con le famiglie italiane il giorno scelto per la ricorrenza istituita nel 1990 non è casuale febbraio secondo un'antica credenza infatti il mese dei gatti delle streghe il numero 17 in base a tradizioni medievali ancora abbastanza radicate nella cultura europea viene spesso associato alla sventura proprio come i gatti soprattutto quelli neri ed è per sfatare questa diceria che è stato scelto proprio il giorno 17 febbraio inoltre il mese dell'acquario il segno zodiacale degli spiriti liberi caratteristica spesso associata a questi felini per natura selvatici ma anche grandi compagni amici degli esseri umani collegata alla data della festa del gatto anche una questione numerica c'è infatti che ricorda che il numero romano 17 abbia un anagramma che in latino significa ho vissuto ed il gatto per tradizione ha a disposizione ben sette vite la scelta del 17 è anche ricollegata a una credenza dei paesi nordici dove il 17 è un numero che porta buona sorte nell'accezione vivere una vita per sette volte